Buongiorno, Eleta Concelli, Sales Manager della divisione PBX Panasonic, io seguo tutta la parte dei centralini telefonici con le applicazioni dell'azienda. In questa situazione ricreiamo un ambiente lavorativo di una reception e abbiamo anche inserito un telefono con un display touch screen che ha la possibilità di visualizzare, oltre che di essere utilizzato ovviamente con il telefono interno del PBX, anche di visualizzare per esempio delle pagine web, una connessione diretta su internet o delle telecamere per monitorare per esempio un ingresso di una porta carraia o di una porta pedonale dell'azienda. In questo ambiente abbiamo ricostruito anche delle sale interne dell'azienda come delle meeting room o delle control room dove abbiamo portato alcuni prodotti diversi. Questa è l'area dove viene replicata una sala meeting all'interno dell'azienda dove per quanto riguarda la parte PBX noi esponiamo un telefono come telefono interno del centralino e un sistema di audioconferenza che normalmente viene posizionato al centro del tavolo e permette di far ascoltare a tutte le persone presenti nella stanza la conversazione in corso. Possiamo vedere il centralino telefonico, quindi il PBX che è il ciambello del sistema telefonico dell'azienda. Nel caso esposto è il modello NS1000 che è una centrale IP, una centrale full IP di Panasonic alla quale fanno capo tutti i terminali che abbiamo visto fino ad oggi, fino a questo momento negli altri ambienti lavorativi, quindi parliamo di telefoni IP che sono collegati sulla stessa rete alla centrale full IP NS1000. In questo ambiente viene replicato un magazzino dell'azienda, come terminali telefonici abbiamo anche in questo caso un telefono IP collegato al centralino e abbiamo due telefoni DECT. Vista la tipologia di lavoro svolto in magazzino, l'operatore non necessariamente si trova nella scrivania o alla propria scrivania ma normalmente lavora all'interno di un'area piuttosto ampia dove utilizzando i terminali DECT collegati alla centrale telefonica continua a parlare al telefono camminando all'interno del magazzino che attenzione. . . . . . . Grazie a tutti